Siamo in Abruzzo, il cuore verde d'Europa, e a 1460 metri di quota alle mie spalle si erge il castello di Rocca Calascio. Una struttura costruita nel XII secolo e situata all'interno del Parco Nazionale del... Signori! Stop! La televisione? Eh sì, stiamo lavorando. Vado a rostici? Ma stiamo lavorando. Lavorà? Sì. Ti aspetto dopo? Dopo, grazie. Ci troviamo davanti la Basilica di Colle Maggio, uno dei simboli della storia abruzzese, ed è proprio qui che nel 1294 venne il proclamato Papa Celestino V. Ancora tu! Te l'ho portato, va? Ma noi stiamo lavorando. A te mi vissiù? Di prima, sì, esatto. Vai avanti, vai avanti. No, non mi dai i fastidi, vai vai. Siamo nel Parco Nazionale della Maiella all'eremo di Santi. Ma come hai fatto a trovarmi anche qua? Ti seguo su Instagram. Vi prego ragazzi, tagliate. Abruzzo. Che spettacolo!